Violenti, specializzati in race, atti di bullismo, vandalismi urbani e a volte, soprattutto al sud, giovani protagonisti di rapine commesse per farsi notare dalle mafie. Baby gang o gang giovanili, come le definiscono i ricercatori di Transcrime, il centro studi delle università di Milano, Bologna e Perugia, che per la prima volta hanno mappato il fenomeno con l'aiuto dei dipartimenti della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno e della giustizia minorile di Via Renula. Un fenomeno in crescita. Più che crescere nei numeri, cresce nella percezione sociale. Lei pensi che nei primi quattro mesi dell'anno quasi duemili articoli di giornale si sono occupati di questo fenomeno? Meno di dieci membri, maschi fra i 15 e i 17 anni, per lo più italiani. Dall'analisi, realizzata grazie alle informazioni raccolte sul territorio da carabinieri e polizia, emergono quattro tipi di gang. Le bande senza capi, la maggioranza che si organizzano per le spedizioni punitive di volta in volta, come è accaduto per il pestaggio del 17enne con sindrome di Down a Roma. Poi ci sono i gruppi che si ispirano alle mafie del sud, quelli che imitano le gang straniere, in particolare al nord, e infine le bande senza riferimenti che non amano pubblicizzare le proprie bravate. Sono la minoranza. Per il resto i video dei crimini girano sulle chat virtuali. Spazi di socialità ancorché virtuali, anche se poi le condotte poste in essere sono condotte assolutamente reali, così come le vittime sono reali.